Goffo camion, attenzione! Teo se la prolunga! Teo esce il portiere! Ma la palla è ancora lì! Palla rinviata, rimessa per il bosso! Mister Gaeta incazzato! Ciao Iri! La sette! La sette! No, la sette! Attenzione! Prova Fornasieri! Nulla di concreto! Tanto una cimice che svolazza in alto! Quindi in diretta dal bar del vostro? Dal vostro sedio? Attenzione! Palla in avanti! Svante! Svante! Svaglia il controllo! L'accelerazione di quello della Mallatese? Marrole! Mamma mia che giocatore! Con tranquillità mister Bonazzo! Non proprio molto tranquillo! La palla alla gatta! La gatta che potrebbe liciarla da un momento all'altro! Palla per Bodini! Bodini! Allarga per Segato che non può salire! Tene Segato! Vediamo lì dietro! Allora il cappellino ha segato! Palla centrale per Fornasieri! Fornasieri! Avanza! Rientra! La palla toccata per Panarello! Palla che allarga da l'altra parte! Per il Bonazzo! Attenzione! Il Bonazzo! Progressione! La potrebbe dare al Goffo il Bonazzo! Perde palla! Buonazzo! Attenzione! Bonazzo! Brau! Harris! Palla centrale per Panarello! Panarello si accentra! Panarello potrebbe anche andare al tiro da lì! Forte al destro! No! Non va! Di pochissimo! Vediamo Panarello disperato! Il capitano del Bosto! Iniziano i cambi qui! Entra... Entra Mark Zuckerberg e esce Edward! Poi entra D'Angelo Biagio e esce il gattone! Poi entra Mayneri Jacopo ed esce... Esce Mayneri Jacopo ed esce... Svancerolenn! Con Bonalumi che va a fare il centrale! Oh la valesina 11-0! Lenape Amсьle humanity! ma Australia 1-0! E fa